Ciao a tutti, buongiorno. Siamo qua come vedete davanti a un planisfero, davanti a una mappa del nostro mondo, del nostro pianeta. E sono qua davanti perché con grandissima soddisfazione e con grande piacere vi dico che mancano pochi giorni all'uscita in libreria il 6 di maggio del mio nuovo libro, Manuale di sopravvivenza, lo pubblica l'editore Il Mulino e ha un sottotitolo che è Messaggi in bottiglia d'inizio millennio. È un libro al quale tengo molto perché Manuale di sopravvivenza raccoglie in realtà un diario, un diario tenuto da me tutte le settimane, una volta alla settimana sulle pagine del Quotidiano La Repubblica, ma ci sono anche molti pezzi inediti che non sono stati fino ad ora pubblicati, in cui io ricostruisco che cosa sia stato questo anno particolare, il 2020, in cui in qualche modo ci siamo trovati a fare i conti con qualcosa che ha tutto quanto il pianeta, tutto quanto il planisfero colorato che è alle mie spalle, perché tutto il pianeta si è trovato a fare i conti un po' come accadeva diciamo dai tempi dei conflitti mondiali, si è trovato a fare i conti con un unico grande nemico e questo nemico ha comportato un'esperienza, un'esperienza particolare, un'esperienza inattesa, che era quella per cui abbiamo scoperto il valore del termine sopravvivenza. In tutti i sensi negli ultimi mesi abbiamo fatto i conti con che cosa sia sopravvivere, sopravvivere non soltanto dal punto di vista fisico, ma sopravvivere con i propri riti, con le proprie abitudini, con le proprie piccole cose che magari non avevano peso e invece abbiamo scoperto che ne hanno e come. Il manuale di sopravvivenza è un po' questo, sono ben due anni dal 2019 fino al maggio del 2021 di diario settimanale in cui ho ripercorso un po' attentato di riannodare le fila di che cosa sia la nostra normalità e quindi sopravvivere diciamo a tutto quello che dall'esterno la contrasta, anche quindi il virus che come vedrete interviene piano piano nelle pagine di questo diario, si comincia a intravedere all'inizio del gennaio del 2020 e poi piano piano diventa il vero protagonista, anche quando poi nell'ottobre novembre del 2020 ahimè è toccato anche a me personalmente farci i conti con il covid. Spero che vi piacerà, è in libreria dal 6 di maggio e avremo modo poi di riparlarne. Manuale di sopravvivenza. Ciao a tutti! Grazie a tutti!